La famiglia Monetti questa mattina non ha liberato la propria casa. L'avviso di esecuzione immobiliare era previsto per oggi, 22 febbraio, data ultima per lo sgombero dell'abitazione, ormai non più di loro proprietà, bensì del nuovo acquirente. Il padre di famiglia Giuseppe, imprenditore con una dita di autotrasporti fallita, sa bene che l'edificio prima o poi dovrà liberarlo, ma ciò che chiede la magistratura in questo caso è che gli venga concesso ancora qualche mese di tempo per poter trovare una nuova sistemazione. Un alloggio che possa supportare le esigenze della sua famiglia, in particolare quelle del figlio Alessandro di 25 anni, che dal 2014 è costretto a vivere su una sedia a rotelle a seguito di un incidente in Motorino. Nove anni senza tregua in cui papà Giuseppe e mamma Rosanna hanno dedicato tempo, denaro e speranza per poter rivedere il loro figlio condurre una vita normale. Questo noi l'abbiamo capito perfettamente, che l'abitazione non è più la nostra, questo è chiaro. L'unica cosa che noi abbiamo chiesto in tutti questi colloqui telefonici che abbiamo avuto con l'avvocato Pretelli, che per conto del Tribunale gestisce questa situazione, è del tempo. Lo so che magari i nostri tempi sono dei tempi che possono sembrare troppo lunghi a chi ha acquistato la casa, però purtroppo abbiamo questa situazione contingente che non ci permette di reagire diversamente in questo momento. Abbiamo fatto questo percorso che è stato molto lungo e ancora lungo, è anche un percorso di soddisfazione perché Alessandro per fortuna sta recuperando tante cose che non erano possibili di recuperare, però è anche molto difficile e noi dal punto di vista economico fino adesso abbiamo fatto da soli. Noi non siamo abituati a fare questo clamore e non è bello per un padre di famiglia mettere pubblicamente che non riesce a far fronte e far bisogno della propria famiglia. Quindi non è piacevole, però non riusciamo in questo momento a liberare l'immobile. Abbiamo bisogno di qualche mese, di un po' di tempo per poterci rimettere in careggiata. Noi siamo qui e lui ha potuto continuare su cura grazie a delle persone private che ci hanno dato dei contributi consistenti per pagargli le cure. Grazie a Coldiretti che ci ha affiancato nel percorso della nuova azienda che abbiamo aperto, grazie a tante persone che ci hanno aiutato. In questi lunghissimi anni di agonia la famiglia Monetti, oltre ad avere a carico un altro figlio, Leonardo Di13, ha sostenuto le spese per poter far fronte alle necessità di Alessandro. Dal montascale al letto ortopedico elettrico, ripianificando l'accessibilità al bagno e le ingenti spese per la fisioterapia. Un percorso riabilitativo che ha mostrato evidenti segni di miglioramento, seguito in una clinica privata macerata Marche quasi tutti i giorni per un costo mensile tra i 4 e 5 mila euro. Abbiamo questo percorso che è incredibile perché lui percepisce le gambe, sa dove sono, riesce a muoverle. Tutte cose che abbiamo noi quattro diagnosi di quattro istituti differenti che ci dicono che non era possibile fare, che lui non avrebbe potuto recuperare nulla. E quindi noi adesso, io vedo solo questo, vedo mio figlio che deve recuperare e sto cercando di proteggere un ragazzino di 13 anni che è in casa con noi e ha il diritto di poter crescere, solo questo. Detto questo non è che è colpa di chi ha acquistato la casa, la casa era in vendita, quindi quello che ha acquistato l'ha acquistato. A questa persona gli chiedo clemenza e pazienza. Questa mattina a dare un abbraccio di solidarietà alla famiglia c'erano amici e parenti nell'intento di ostacolare metaforicamente la procedura di sgombero invocata dal presente avvocato Buffoni, a difesa del nuovo aggiudicatario dell'immobile e di Alberto Pratelli, custode e giudiziario per l'esecuzione immobiliare. Una storia che si è infittita dai primi di luglio del 2022 quando è stato notificato il decreto di trasferimento dell'abitazione e dentro 120 giorni l'immobile doveva essere consegnato. A me si è arrivati a questa situazione probabilmente perché io con la famiglia Monetti ho avuto anche contatti con Giuseppe se non sbaglio e il papà di Alessandro che mi disse che già da settembre aveva contattato le case popolari per avere una sistemazione ma ad oggi pare che non abbia avuto risposta, io non ho avuto nessun contatto da istituti comunali o qualsiasi altra istituzione che mi aggiornasse della situazione, quindi questo era l'esito naturale della cosa insomma, pur comprendendo moralmente le esigenze della famiglia e il disagio che hanno avuto, c'è anche da comprendere che dall'altra parte c'è una signora, una giudicataria con figli che ha acquistato un immobile che sta contestualmente pagando il mutuo dell'acquisto e l'affitto della casa. Ed è una cosa che si sapeva ormai da tempo perché la procedura è del 2018, quindi che questa casa prima o poi è andata all'asta si sapeva da 5 anni. In tarda mattinata Pratelli ha consegnato alla famiglia il verbale di liberazione dell'immobile ma da oggi alle prossime settimane non ci saranno ulteriori sviluppi fino a quando non verrà riaperto il procedimento.